Stasera a Trastevere, tra tanti VIP, attori, cantanti, musicisti, abbiamo una modella bellissima. Lei è stata la prima Miss Italia Sorda che ha partecipato appunto a un concorso di moda. Elisabetta Viaggi. Eh certo, molto molto... E facciamo un brindisi, un brindisi! Un'artista a 360 gradi, è anche una pittrice. Facciamo veramente i complimenti ad Elisabetta, brindiamo!